Ma qua c'è tutto un altro venuto, va? Sì, l'uscita... Quindi situazione in testa, Romagnolo, Cepcorir, Kalovic, a inseguire Tarri, Santini, Francario, Guaglia, Marconi, Sufjan e Belotti. Una classifica provvisoria e ufficiosa dopo il primo giro che vede davanti il centro sportivo esercito, campioni d'Italia in carica, seguiti da Runner Team, Calcestruzzi con Radini Excelsior, Forestale, Cover Sportiva Mappei, Cus Genova, Running Club Futura, Atletica Brescia. Queste le prime otto squadre, nono posto della provvisoria troviamo Cuspro, Patria, Milano e Decime, Decime e Toscane del gruppo sportivo Lampari. Forza Sara! Bravissima! Allunga Aniko Kalovic, nella sua scia Elena Romagnolo. Kalovic, Romagnolo. Perso contatto, Emily Cepcorir. Emily Cepcorir che è stata riassorbita. Solo applausi a Aniko Kalovic, Elena Romagnolo, forza Elena! Si lotta a squadre ma si lotta anche per vincere la gara. Ultimo giro, Aniko Kalovic ha 20 metri di vantaggio, sull'Azzurra Elena Romagnolo. Prima testa italiana delle siepi, vicinissima a Fameromai, a Kalovic, Elena Romagnolo. E poi il finale di Valentina Belotti, runner team. Terzo posto, quarta, Federica D'Avrì. Quinta, Emily Cepcorir. Sesta, Giulia Procario. Settima, Simola Santini. Questa è la protagonista del lungo. Un giro d'appi. E poi Emma Quaglia, Genova. Emma Quaglia, seguita da Laila Subbiano, esercito. Poi Gloria Marconi. E poi, un'altra fetta del runner team, Marconi Acciani. Valla a prendere! Voi, che ce la facciamo! Valla a prendere! Passa Vicenza Sicari. Forza ragazze, ultimo giro. Passa la Maratone d'Azzurra, Ivana Iozzia. Ultimo giro per tutte queste atlete, come l'Azzurra della corsa in montagna, la Roberti. Intanto dall'altro lato del percorso, sempre 30 metri tra Aniko Kalovic e Elena Romagnolo. Forza ragazze, forza Elena. Vai, vai! Elena Romagnolo mai così vicina alla Kalovic quest'anno. Sembrano. Grazie, su. Gran parte dei atletatori che sanno nel loro ultimo giro. Calomiz Romagnolo per questo finale del cross l'uno dicevamo prima prepotentemente si è portata in terza posizione Valentina Velotti del runner team Velotti è terza Dallari è quarta un altro duello nella gara Velotti Dallari e poi Cep Corir 2-3 del runner team nelle prime cinque Ale Ivana Ale Ivana Porta ragazzi l'ultimo giro Ale Ila Ale Ila Andre Ila Lifsoni Vila Martina Mandina Andiamo Vila Martina Dallari Andiamo Romagnolo, portano gli applausi, sono tutti diventati, ha vinto, ha vinto, ha vinto, come Mattei, bellissima prova, ma ormai come oggi, la nostra giulla è Romagnolo, così vicina, bravissime, grazie ai protagonisti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.